Presidente Gianfranco Marsibilio, la presentosa arriva al mare e in questa presentosa c'è tutto, il simbolo dell'artigianato artistico abruzzese, l'innovazione per come è stata realizzata e la volontà di farsi conoscere ovunque, qui sul mare. La volontà di far conoscere le bellezze dell'artigianato artistico abruzzese, ci siamo incontrati con molto piacere con la città di Fossa Cesia, con il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio che mi ha dato, ci ha dato questa bella opportunità. L'Abruzzo è un territorio che ha tante bellezze, bellezze naturali, la costa dei Trabocchi, siamo partiti dal Geoparco della Maiella per arrivare qui sulla costa dei Trabocchi. L'Abruzzo non è solo un territorio dove si viene per mangiare, anche se si mangia sicuramente molto bene e si beve dell'ottimo vino, ma è un territorio ricco di artigianato, di storia, di cultura, di siti archeologici. Quindi non restare sulla Maiella, non restare sulla costa dei Trabocchi, ma vedere tutte le bellezze che la nostra regione offre. Al tempo stesso le nuove tecniche digitali con cui il maestro Carullo ha sapientemente realizzato quest'opera, sono molto importanti perché riescono a far avvicinare le nuove generazioni all'artigianato artistico. Tanti mestieri artigianali si rischiano di perdere e quindi le nuove tecnologie devono e sono sicuramente un incentivo per non far chiudere le tante botteghe artigiane che ci sono in Abruzzo. Naturalmente questa è un'iniziativa che si sposa e va anche a pubblicizzare la 52esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese che è attualmente in corso a Guardia Grele ed invito tutti i turisti e anche gli abruzzesi a venire a Guardia Grele dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23 fino al 28 agosto. Enrico Di Giuseppe Antonio, ora a dominare la bellissima costa dei Trabocchi, oltre alla bellissima abbazia di San Giovanni in Venere, c'è una presentosa. Sono grato all'ente mostra artigianato di Guardia Grele, sono grato all'artista Francesco per aver messo, depositato per un mese circa, la presentosa in un campo agricolo che appunto è sotto l'abbazia di San Giovanni in Venere. Questo consolida un'idea importante che io ho sempre avuto, creare le condizioni perché la cultura, il turismo, l'artigianato costruiscano davvero quell'economia che appunto può creare un futuro migliore anche alla nostra realtà ma in tutto l'Abruzzo. Maestro Francesco Carullo, questa bellissima opera, qualche caratteristica tecnica visto che lei è l'autore? Allora, questo è stato disegnato con il CAD per dare esattamente le giuste proporzioni partendo dal disegno originale. Logicamente è un'interpretazione dovuta a motivi tecnici per renderla il più realistica possibile. È di multistrato fenolico ed è circa 12 metri di diametro.